La centosettesima edizione del Giro d'Italia è quinto successo per i colori italiani. Dopo i tre di Jonathan Milan e quello conquistato da Filippo Ganna nella prova al cronometro, arriva la vittoria di Andrea Vendrame. Gran bella vittoria da parte del Veneto che è giunto tutto solo sul traguardo di Sappata a conclusione di un'azione iniziata a 30 km dal traguardo. Il gruppo Magliarosa è arrivato con quasi 16 minuti di ritardo, nessun problema per la Magliarosa di Tatei Pocaciar. Il vantaggio sul secondo in classifica generale permette allo sdloveno di affrontare la penultima tappa in tutta tranquillità. Una penultima tappa impegnativa col doppio passaggio sul Monte Grappa. Ci sarà da vedere chi affiancherà Tatei Pocaciar sul podio finale di Roma perché dando per scontato la vittoria del portacolori della UAE ci sono altri 4-5 corritori che potrebbero ambire al successo finale. Un giro quanto mai al vincente è da seguire fino all'ultima frazione. Seguite sempre il Giro d'Italia, dunque rispettate i ciclisti e vive il ciclismo sempre! Grazie a tutti!